quel giorno fu indimenticabile e mai più si cancellò dalla sua memoria la maestra aveva parlato di ulisse e dei suoi viaggi di mostri spaventosi bellissime maghe e mogli fedeli quella notte sognò ma dove mi trovo e chi sono questi uomini e remi ah sì sono ulissino e questi sono i miei compagni stavamo cercando insieme la nostra isola ma perché mi hanno legato così stretto all'albero maestro non posso muovermi ulissino vieni vieni getta i libri in mare e abbandona gli affanni della vecchiezza rinnega la tua casa vieni dimenticati in noi in noi che siamo sirene vieni fra le nostre braccia è dolce perdersi vieni no un altro il mio orizzonte laddove la mia isola mi aspetta fra i caldi affetti della mia famiglia